Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Un'auto articolato in fiamme e qualche ora dopo un maxitamponamento a catena che ha coinvolto altri tre mezzi pesanti. E' successo tutto nello stesso tratto bolognese della 13, quello compreso tra Interporto e Altedo, rimasto a lungo chiuso per consentire l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Nell'incidente uno dei camionisti è rimasto gravemente ferito. Sembra passato un secolo, ma gli scontri social sull'uso della mascherina anti-covid rischiano di tornare attuali. Questo perché l'ex consigliere del Movimento 5 Stelle, ora ristoratore Giovanni Favia, rischia l'accusa di diffamazione, aggravata per un post da lui pubblicato su Facebook più di tre anni fa. I commenti furono feroci e non risparmiarono insulti a due agenti della polizia locale. Per il giudice delle indagini preliminari, Favia è responsabile. L'Italia non è del tutto fuori dalla crisi energetica, ma il costo delle bollette di luce e gas continua a diminuire. Quanto dichiarato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattin, oggi a Bologna, e da un'indagine commissionata da Illumia emerge che due famiglie su tre scelgono il mercato libero dell'energia. La regione annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale contro il Governo. In tema di riorganizzazione scolastica, il rischio è la cancellazione di 15 istituti scolastici solo in Emilia-Romagna in tre anni. In pericolo soprattutto le aree della montagna. I tagli sull'istruzione e sulla sanità ci preoccupano, avverte il presidente Stefano Bonaccini. Oggi l'artista intellettuale iraniana Marianne Satrapi è stata l'ospite d'onore della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Alma Mater. Satrapi ha tenuto una lezione magistralis dal titolo La libertà della mente, poi ha ricevuto il sigillum magnum dalle mani del rettore Giovanni Molari, che ha citato anche lo studente egiziano Patrick Zaki. La sua tenace difesa dei diritti umani è una lezione per tutti noi. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai nostri titoli. Giornata nera questa mattina per l'autostrada A13 Bologna-Padova, che per ben due volte è stata chiusa per colpa di un mezzo pesante in fiamme prima e poi di un maxitamponamento a catena. Nell'incidente c'è stato anche un ferito grave. Ma andiamo a vedere le immagini e la ricostruzione di quanto accaduto in A13. Prima l'incendio di un tir che trasportava cartongesso e che ha preso fuoco autonomamente a causa di un guasto. Qualche ora dopo, a un chilometro di distanza, un brutto incidente con tre mezzi pesanti coinvolti e un camionista gravemente ferito. È successo tutto oggi, fra la mattinata e il primo pomeriggio, nel tratto bolognese dell'A13, quello compreso fra Interporto e Altedo in direzione Padova. Tratto rimasto a lungo chiuso per consentire l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. L'incendio del tir carico di cartongesso è avvenuto verso le 10.30 e non ha causato feriti, ma solo disagia la circolazione, dato che per consentire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme è stato necessario chiudere per alcuni minuti l'autostrada. Nello stesso tratto, ad appena un chilometro di distanza, alle 13.30 si è verificato il tamponamento a catena che ha coinvolto tre autoarticolati per cause da accertare. Ad avere la peggio è stato il conducente di uno dei camion che trasportava rifiuti. L'uomo, un 46enne della provincia di Frosinone, è rimasto incastrato nell'abitacolo e una volta liberato dai vigili del fuoco, è stato soccorso dal 118 e portato in eliambulanza all'ospedale maggiore di Bologna in condizioni serie. Anche questa volta si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale con uscita obbligatoria a Interporto per chi viaggiava in direzione nord e code di svariati chilometri che hanno avuto ripercussioni anche sulla tangenziale di Bologna. Solo dopo il 17 l'autostrada è stata completamente riaperta. Per la viabilità e per tutti i rilievi di legge hanno operato gli agenti della polizia stradale di Altedo. Ed ancora disagi al traffico, questa volta per motivi diversi, in via Saffi a Bologna appunto non per una rottura dell'asfalto ma per lavori in preparazione del discusso cantiere del tram. Facciamo il punto in questo servizio ancora balletti. Vedendo i cartelli questa mattina in via Saffi a Bologna tanti hanno pensato all'ennesimo cedimento dell'asfalto. Questa volta invece quelli cominciati nel tratto fra via San Pio Quinto e via Vittorio Veneto sono lavori programmati dal comune. Si tratta effettivamente dello stesso punto all'incrocio con via del Chiù che aveva già dato problemi di tenuta nei mesi passati dovuti a crepe nell'asfalto e cedimenti nella copertura del sottostante torrente Ravone. Il cantiere aperto oggi, spiega lo stesso comune, riguarda la verifica e ripristino dei fissaggi delle lamiere metalliche posizionate al di sotto della pavimentazione a copertura del tombinamento del torrente di Ravone. Lavori propedeutici a quanto pare a quelli per la realizzazione della linea rossa del tram e che dureranno solo pochi giorni con termine previsto del cantiere giovedì 23 febbraio. Fino ad allora in quel tratto di via Saffi è stato istituito un senso unico in direzione periferia con soppressione della preferenziale in direzione centro e la deviazione di diverse linee di autobus su via Vittorio Veneto e via Malvasia. La stessa amministrazione di recente aveva già anticipato che la soluzione definitiva per il maridotto asfalto di quel tratto di via Saffi arriverà solo col cantiere della linea rossa del tram che fra le altre cose prevede anche il rifacimento completo della copertura del torrente Ravone. Cambiamo argomento. È stata rinviata il 20 marzo l'ultima udienza nel processo d'appello a carico del 17enne accusato dell'omicidio di Chiara Gualzetti, la ragazzina uccisa un anno e mezzo fa a Monteveglio. In primo grado il giovane che confessò il delitto dicendo di aver agito spinto da un demon era stato condannato a 16 anni e 4 mesi. Oggi in corte d'appello a Bologna sono stati risentiti i periti e per il prossimo 20 marzo è dunque attesa la sentenza. Mi aspetto che ci sia una conferma della condanna di primo grado, la pena che ha avuto e il massimo che noi potevamo ottenere seppur poco per quello che ha fatto, aveva detto il padre di Chiara in occasione dell'ultima udienza. Senza alcun motivo passiamo alla cronaca. Hanno appiccato fuoco ad un cumulo di foglie secche in un'aiuola innescando un incendio che stava per bruciare un intero albero. È successo ieri pomeriggio nel pieno centro di Bologna all'angolo fra via del Porto e via Polese. Ad accorgersi di quello che stava succedendo sono stati alcuni cittadini che hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco e alla polizia. I pompieri sono intervenuti e hanno spento le fiamme prima che si estendessero alla sommità dell'albero. Vista la matrice dolosa del rogo gli agenti hanno esaminato i filmati di alcune telecamere in zona che avevano effettivamente ripreso i piromani. Mentre uno appiccava il fuoco alle foglie con un accendino l'altro faceva il palo. Entrambi i volti conosciuti alla polizia sono stati rintracciati poco lontano. Si tratta di due italiane di 53 e 59 anni senza fissa dimora. Per loro è scattata la denuncia per danneggiamento a seguito di incendio. Sembra passato un secolo ma gli scontri social sull'uso della mascherina anti-covid tornano in qualche modo attuali. Questo perché l'ex consigliere del Movimento 5 Stelle, ora ristoratore Giovanni Favia, rischia l'accusa di diffamazione aggravata per un post pubblicato su Facebook più di tre anni fa. Cerchiamo di capire insieme questa storia nel servizio di Gabriele Sciarra. Dopo una multa ricevuta durante il primo lockdown nel suo locale perché non indossava la mascherina si lamentò pubblicamente su Facebook postando la foto del verbale e dei due agenti della polizia locale che lo multavano che in seguito furono presi di mira da una serie di commenti e insulti da parte degli utenti social. Protagonista dell'episodio, l'ex consigliere del Movimento 5 Stelle Giovanni Favia, ora ristoratore, che per quei fatti rischia il processo per diffamazione in quanto il GIP del Tribunale ha disposto per lui l'imputazione coatta, rigettando la richiesta di archiviazione della Procura. I fatti risalgono al 7 maggio del 2020, quando due agenti della polizia locale entrarono per una ispezione nel locale di Favia in via del Borgo, multandolo perché non indossava la mascherina. Lo stesso giorno l'ex grillino pubblicò un post con la foto della multa e l'immagine degli agenti, i quali in seguito lo querelarono per quel post in quanto al loro giudizio li esponeva il pubblico ludibrio. Per il GIP la scriminante del diritto sussiste per il post, ma non per i commenti rispetto ai quali, sempre secondo il GIP, l'indagato non può ritenersi estraneo in quanto titolare e amministratore della pagina. Per il GIP, insomma, Favia ne era consapevole, non solo per avere lui stesso provocato quei commenti, ma perché è intervenuto nel dibattito per chiedere ai suoi sostenitori di diffondere il più possibile la notizia dell'ingiustizia subita, senza minimamente censurare le gratuite e strabordanti manifestazioni di disprezzo nei confronti degli agenti. La diffamazione non è riferita a quello che io ho scritto, ma a tre commenti su 871 e di questi tre io non nero a conoscenza. Si difende Favia che poi aggiunge, se invece che appesantire i tribunali mi avessero segnalato i commenti, li avrei rimossi. Ora la procura dovrà formulare l'imputazione per la diffamazione aggravata, mentre il post e i commenti oggetto della querela sono ancora sulla pagina social di Favia. I carabinieri della stazione Bologna Corticella hanno arrestato un 29enne di origine senegalese per avere violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre che aveva ripetutamente maltrattato. Negli ultimi quattro mesi il ragazzo, assuntore di stupefacenti e disoccupato, aveva iniziato a offenderla e picchiarla. L'ultima volta lo scorso 4 febbraio quando la richiesta della mamma di abbassare il volume del televisore l'aveva colpita con un pugno, facendola finire al pronto soccorso con un trauma cranico e 4 giorni di prognosi. L'arresto è stato eseguito l'altro pomeriggio, quando il 29enne è stato sorpreso dai carabinieri davanti all'abitazione della donna, da cui doveva stare lontano almeno 500 metri. Dopo l'arresto, su disposizione della procura, è stato rimesso in libertà. Ed ora voltiamo pagina. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Picchetto Frattina, ha parlato di crisi energetica e anche del bonus 110 ad un convegno promosso da Illumia. È andata per noi Maria Elena Mele. Sentiamo. Bollette più leggere, ma ancora non si può dire con certezza che l'Italia è fuori dalla crisi energetica. Lo ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Picchetto Frattin, intervenendo ad un convegno promosso da Illumia a Bologna. Se il trend è quello che stiamo vivendo, io credo che avremo di nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche dell'energia nella prossima decisione di Herrera. L'importante è che tutto questo si stabilizzi. Si può dire che siamo fuori dalla crisi energetica? Speriamo. Speriamo, perché questa crisi energetica è anche legata a una serie di rapporti internazionali che c'erano con la Russia, ad esempio, e quindi è anche legata a un brutto conflitto in corso ancora in Europa. Pertanto il dire che dare certezze diventa molto difficile con una guerra a 2.000 km. Sulle comunità energetiche come si è ammesso? La comunità energetica a ore invia alla Commissione europea la proposta di provvedimento che diventa efficace con il timbro della Commissione europea. Il provvedimento c'è, è pronto. L'obiettivo è quello che se ne possono fare almeno 15.000, che si dimezzi la bolletta di almeno 2 milioni di famiglie, almeno come parametro di tanto per pesarlo. Io credo che sia un obiettivo raggiungibile, un grosso contributo. E sul bonus a 110 ha dichiarato. Non era possibile fare diversamente. Adesso il governo valuterà rispetto anche a quelle situazioni che hanno determinato circa un 15 miliardi di crediti incagliati, che significa che le aziende falliscono non perché abbiamo bloccato l'accessione del credito, ma perché nessuno gli comprava il credito a queste aziende, ricordiamocelo. Quindi i termini vanno letti correttamente. E continuiamo a parlare di bollette. Cresce il numero di famiglie e di imprese che scelgono il mercato libero dell'energia. Nel 2022 il dato è passato dal 60 al 67% è quanto emerso da un'indagine presentata da Illumia. Vediamo a sentire i dettagli. Due famiglie su tre scelgono il libero mercato nell'energia, tanto che nel 2022 i clienti sono aumentati di 7 punti percentuali. Non solo i nuclei familiari, ma anche le imprese scelgono i propri fornitori di luce e gas e concordano con il venditore le condizioni economiche e contrattuali della fornitura di elettricità e di gas. E quanto emerge da un'indagine condotta dall'Istituto Bruno Leoni è commissionata da Illumia. Le attività che sono da svolgere a livello regolatorio sono quelle che sono sul tavolo adesso, quindi innanzitutto la diminuzione della domanda non solamente a livello spontaneo ma anche in maniera accompagnata in maniera regolatoria. Insomma le comunità energetiche sono uno strumento di diminuzione dei consumi che possono veicolare risparmi energetici. L'altro aspetto è il mercato libero. Durante la crisi il mercato libero ha veicolato prezzi più bassi del mercato tutelato dando la possibilità di bloccare i prezzi, cosa che il mercato tutelato non fa, quindi bisogna concludere la liberalizzazione. Questi sono i due capi saldi. Più i prezzi salgono più stressano finanziariamente i modali di business degli operatori perché prima pagano poi incassano. È una dinamica molto semplice. Questo però non toglie che la prudenza che dobbiamo avere e dato che comunque ci stiamo dimenticando tutti che un conflitto a pochi chilometri di distanza ancora c'è e sperando che non si allarghi e quindi non prenda dimensioni più importanti e quindi possano potenzialmente veicolare altri grandi stress a livello di prezzo. In tal caso l'intervento decreto aiuti con le garanzie sacce ha funzionato. È stato magari all'inizio un po' goffo ma alla fine ci ha aiutato. Bisognerebbe renderlo stabile magari legato a livelli di prezzi alti. Ed ora apriamo una pagina dedicata alla scuola perché la regione decide di presentare un ricorso alla Corte Costituzionale contro il Governo sul tema della riorganizzazione scolastica. Un'iniziativa finora inedita che però è stata sollecitata dalla forte preoccupazione da parte delle istituzioni per i tagli su scuola e sanità. Vediamo. Con la scuola non si scherza. È la premessa imprescindibile della decisione assunta dalla regione di presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro la norma del Governo sulla riorganizzazione della rete scolastica. Per la giunta dell'Emilia Romagna si tratta di un grave attacco alla scuola pubblica che porterebbe ad una chiusura di almeno 15 istituti scolastici in tre anni nelle aree più interne e soprattutto nelle zone montane. Tra i rischi della riorganizzazione prevista c'è anche il sovraffollamento delle classi e dunque una conseguente penalizzazione generale del sistema scuola. Questo provvedimento va nell'esatta direzione contraria e noi lo impugniamo presso la Corte Costituzionale perché crediamo che come prevede la Costituzione non sia assolutamente tollerabile che si vada contro la programmazione del dimensionamento regionale rispetto a una materia che dovrebbe vedere noi protagonisti, non certamente il Governo e lo Stato, ma mi preoccupa che come stanno tagliando sulla sanità adesso si comincia a tagliare anche sulla scuola pubblica. Certamente ci sono a rischio diversi istituti, tra l'altro con un dimensionamento che avevamo già in questi anni ridotto rispetto a un più complessivo equilibrio generale, quindi siamo molto preoccupati ovviamente. Ridurre ancora il numero di istituzioni scolastiche voglio dire avere dei presidi che devono presidiare un territorio enorme, magari su uno o due valli, quindi anche con delle difficoltà di raggiungere le varie sedi. Questa è una condizione che in montagna pian pianino si sta già avverando, ma che con una riduzione drastica come quella che è prevista in questa fase ci costringerà a fare degli ulteriori sacrifici. Tra le norme contestate, quella per cui si sarebbe deciso l'innalzamento a 900 unità della soglia minima di studenti per poter avere un'autonomia scolastica con un proprio dirigente. In Emilia Romagna con questa metodologia si avrebbero così 15 istituti scolastici in meno. Meno presidi, meno istituzioni scolastiche, meno capacità di governo sul territorio della scuola vuol dire piano piano perdere il controllo della situazione, questo secondo noi è sbagliato. E ora la pagina politica, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini è candidato alla guida del Partito Democratico, si prepara alle primarie che si svolgeranno domenica 26 febbraio, Bonaccini dovrà vedersela con Eilish Klein ai nostri microfoni, stamattina Bonaccini ha però rinnovato l'appello alla partecipazione, sentiamo le sue parole. Girerò fino all'ultimo giorno come immagino farà Eilish Klein, abbiamo il dovere di mobilitare più gente possibile, anzi lanciamo un appello, tutti quelli che pensano che il Partito Democratico possa essere rilanciato, rigenerato, sia chi ci crede, chi ci ha votato anche l'ultima volta, chi magari è deluso ma capisce che può essere un'ultima occasione o una nuova occasione per ripartire e crescere, oppure chi pur deluso capisce che il Partito Democratico è il perno del centro-sinistra e anche del suo futuro e che è la principale alternativa a questo governo delle destre, mi auguro venga a votare, visto che si può votare dalle 8 alle 20, si può andare a cercare il gazebo o il luogo di riferimento dove votare vicino a casa propria, andando a vedere sul sito e raccogliendo tutte le informazioni che stiamo facendo girare anche nei nostri canali social e informativi e soprattutto può votare chiunque, non solo gli iscritti, qualsiasi cittadino che ritiene di poter dare il proprio contributo venga a scegliere tra Bonaccini e Schlein e io credo di poter avere l'esperienza, la storia, le qualità per poter guidare questo partito, soprattutto per poterlo unire il giorno dopo e soprattutto per provare a costruire un nuovo centro-sinistra perché il primo obiettivo sarà tornare tra qualche anno al governo perché avremo battuto la destra nelle urne. Cambiamo argomento, l'artista intellettuale iraniana Marianne Satrapi scrisse nel 99 Persepolis, fumetto autobiografico che raccontava l'Iran repressivo dopo la rivoluzione islamica del 79, questo pomeriggio Satrapi è stata ospite d'onore alla cerimonia d'inaugurazione del 935esimo anno accademico dell'Università di Bologna nell'Aula Magna di Santa Lucia, il rettore Giovanni Molari le ha consegnato il sigillo magnum dell'Ateneo come stiamo vedendo in queste immagini e Satrapi ha tenuto una lexio magistralis su the freedom of mind, la libertà della mente a margine della cerimonia, il rettore Molari ha poi fatto il punto del programma dell'Ateneo e ha ricordato anche Patrick Zacchi per la sua tenace difesa dei diritti umani. Sentiamo dunque le parole del rettore Molari al microfono di Alessia Salvatori. Magnifico rettore, un nuovo anno accademico, i punti salienti del suo messaggio agli studenti? Innanzitutto i diritti umani in un periodo in cui le guerre, i problemi di diritti umani sono tornati alla ribalta un po' in diverse parti del mondo, credo che questo sia uno dei temi principali della giornata di oggi, visto anche l'ospite d'onore che abbiamo, che ha fatto della sua vita un po', ha vissuto in prima persona problemi e speranze del popolo iraniano. Tra una settimana ci sarà la nona udienza per Patrick, altro nostro studente che abbiamo seguito, sostenuto e che ci ha insegnato come sia importante anche con la sua vicenda difendere ulteriormente i diritti della persona. Sicuramente un'attenzione al diritto allo studio che è stata raccolta con diverse iniziative, un'attenzione ai diritti umani, al benessere del personale, a diverse iniziative che abbiamo fatto anche in termini di accordi per difendere il lavoro delle persone che lavorano con l'Università di Bologna. Il rientro e il ritorno alla didattica in presenza che abbiamo fortemente voluto e difeso e poi quelli che saranno gli obiettivi principali per il prossimo anno da una rivisitazione un po' dell'offerta didattica, un piano energetico che consenta di rendere più efficienti i nostri edifici e poi una riforma dello statuto che porteremo agli organi per iniziare un percorso che porti a migliorare ulteriormente la nostra efficienza all'interno delle nostre strutture. Il generale di divisione Ivano Maccani, comandante regionale della Guardia di Finanza per l'Emilia Romagna, in mattinata si è recato in visita ispettiva nella sede del comando di Bologna, accolto nella caserma Vaiani del comandante provinciale generale Levanti, ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio presso diversi reparti, rivolgendo loro un personale ringraziamento per la quotidiana azione svolta sul territorio. In seguito Maccani ha assistito ad un briefing istituzionale tenuto dal comandante provinciale e da tutti i comandanti dei reparti dipendenti nel corso del quale sono state approfondite le principali tematiche ed iniziative del corso. Al termine della visita il comandante regionale ha espresso parole di apprezzamento per l'attività e l'impegno profusi nelle molteplici aree di competenza del corpo e per l'efficacia dei controlli effettuati a prevenzione e contrasto degli illeciti economici finanziari. Ed ora una buona notizia sul fronte meteorologico. A metà settimana dovrebbero tornare le piogge anche sul nostro territorio, previsto anche un abbassamento delle temperature con neve in appennino, ma per gli agricoltori non saranno sufficienti per risolvere i problemi legati alla siccità che sta affliggendo da tempo le colture dei nostri campi. Gabriele Sciarra. Il lungo periodo di tempo stabile e soleggiato che ha caratterizzato anche la nostra regione, Bologna compresa, potrebbe avere i giorni contati. L'anticiclone che ha sbarrato la strada, possibili precipitazioni secondo gli esperti meteo, sta perdendo forza e da giovedì lascerà il posto ad un'area di bassa pressione proveniente da nord Europa che dovrebbe portare correnti instabili e più fredde fin verso il bacino del Mediterraneo coinvolgendo la nostra regione e la nostra città. Previste dunque foschie e temperature superiori alla media fino a mercoledì notte. Da giovedì è atteso un ritorno delle precipitazioni a partire da nord-ovest in estensione verso est nei giorni successivi. Piogge via via più intensa nel weekend con neve anche a bassa quota. Una situazione che potrebbe continuare nei primi giorni della prossima settimana. Una buona notizia per quanto riguarda la qualità dell'aria, da tempo caratterizzata da valori molto alti di polveri sottili. Discorso più complesso per quanto riguarda invece l'agricoltura alle prese con problemi di siccità. Secondo Coldiretti, l'annunciato arrivo di precipitazioni è importante, ma per tornare alla normalità e garantire le produzioni agricole primaverivi ed estive sarebbe necessario oltre un intero mese di pioggia. Il deficit di acqua ha toccato il 40% e la situazione è peggiore di quella dello scorso anno quando si è registrata una perdita di almeno 6 miliardi di euro nei raccolti per la siccità. Per il Presidente Prandini, di fronte al cambiamento climatico non è più rinviabile un piano di invasi per contrastare la siccità ed aumentare la raccolta di acqua piovana, oggi ferma ad appena l'11%. Buone notizie arrivano da Monterenzio, infatti sta migliorando la situazione della frana nella frazione di Villa Sassonero e di oggi la notizia della riapertura ai residenti e ai mezzi pubblici Tiper della strada statale provinciale 21 Sillaro. La decisione è maturata a seguito dei risultati del monitoraggio della massa franosa, le spie cementizie inserite nelle crepe o fessurazioni nei fabbricati o pavimentazioni dimostrano che non persistono movimenti attivi di rilievo della frana, spiega il Sindaco di Monterenzio Ivan Mantovani. Intanto proseguono i lavori per lo smaltimento delle acque superficiali effettuate dai proprietari dei terreni coinvolti dalla frana. Sabato pomeriggio il centro di Bologna è stato un tripudio di abiti e balli d'epoca con il Carnevale delle Meraviglieri, evocazione storica del Carnevale bolognese della società del dottor Balanzone. Ci racconta tutto Alessia Salvatori. Quello appena trascorso in centro Bologna è stato un sabato all'insegna del divertimento con il Carnevale delle Meraviglie, rievocazione storica del Carnevale bolognese e della società del dottor Balanzone. L'evento a cura dell'associazione 800 APS, in collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento del settore Musei Civici Bologna, ha visto un corteo in abiti storici ottocenteschi sfilare da Piazza Carducci sotto i portici di Via Santo Stefano e Via Farini, per arrivare a Piazza Minghetti, dove 150 danzatori si sono esibiti in una rievocazione del Gran Ballo di Carnevale. La manifestazione fa parte del progetto Ballo Anch'io, con cui 800 APS si propone di far conoscere la storia di Bologna, dei suoi portici e delle sue comunità attraverso la danza storica. Unica nota anacronistica è che i bolognesi vestiti da etruschi nell'ottocento spipagliavano come matti, fumavano sigare, sigarette e sigari toscani, un'usanza decisamente poco etrusca. L'evento, che rappresenta anche la restituzione dei percorsi laboratoriali sulle danze storiche dell'ottocento rivolti a bambini e ragazzi, è stato accompagnato dalla musica della banda Puccini e dalla compagnia Burattini di Riccardo Pazzaglia, con regia e direzione artistica di Alessia Branchi. Cosa succedeva a Bologna? Si ballava, si ballava nelle piazze. Le piazze erano organizzate con delle pedane molto grandi. Ovviamente c'erano i veglioni all'interno dei teatri e dei palazzi. Ma la società del dottor Balanzone, che era una società che organizzava gli allestimenti, i divertimenti per la città, organizzava queste serate per il popolo, per tutti i cittadini. Con rievocazioni storiche dell'antica marcia degli etruschi, rievocazione che io modestamente con la società del dottor Balanzone, a metà ottocento, facevo scorrere per tutte le vie cittadine. Scientifico, grande storia. Noi ora ci fermiamo, rientreremo in studio tra pochissimo con altre notizie, parleremo di sport. Restate con noi. L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo proprio TK Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulfarma in farmacia. Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni, Magica Parrucchieri è molto più di un hair stylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine. Per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara. Via Procaccini 10. Telefono 051 36 16 12. 051 36 16 06. Le venti buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulfarma in farmacia. Noi agricoltori non smettiamo mai di pensare al meteo. E ora anche al cambiamento climatico mi preoccupa. Ora utilizziamo gli Arabera Sulfan e gli Ara Vita, particolarmente adatti per il frumento. E abbiamo visto un aumento sia della qualità che della resa. Riduce anche l'impatto ambientale delle nostre produzioni. Insieme possiamo far crescere la redditività, l'efficienza e la sostenibilità dell'azienda agricola. L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo proprio TK MIRO. Rafforza le tue difese immunitarie da Pulfarma in farmacia. Per la tua pubblicità su ETV Rete7 chiama 051 63 81 819. Ancora in diretta con il nostro telegiornale. Oggi Sinisa Mijailovic avrebbe compiuto 54 anni. Per ricordarlo, proprio da oggi su Dazon sarà disponibile una serie che ripercorre l'intera annata 2021-2022 del Bologna. La presentazione è in questo servizio di Luca Pinkerle. Una dedica speciale a Sinisa nel giorno del suo compleanno. Mijailovic ne avrebbe compiuti 54 e proprio oggi il Bologna ha reso disponibile sulla piattaforma Dazon la docuserie We Are One incentrata sulla stagione 2021-2022. Il racconto di una storia umana e sportiva del tutto unica fortemente condizionata dal dramma vissuto con la ricaduta della leucemia dell'allenatore. Momenti di spogliatoio emozionanti ripresi dall'insider Gianluca Ciraolo che teletrasporta gli spettatori dentro la vita quotidiana di Casteldebole e nel sudore delle partite. Una serie che ha già attratto a livello nazionale che il Bologna spera di poter rendere globale per diffondere il racconto di brave persone prima ancora che bravi calciatori che hanno attraversato i momenti strazianti che la vita gli ha presentato. Un omaggio alla storia di Mihailovic che il Bologna vuole rendere immortale. E questa sera alle 21 su ETV il pallone nel 7 a seguire intorno alle 23.15 la differita della gara Sabdoria a Bologna giocata sabato e vinta dai rosso-blu per 2 a 1. Intanto una notizia che riguarda il basket domenica amara delle Borugnesi la fortitude è stata sconfitta in casa da Mantova 73 a 77 mentre la Virtus ha perso la finale di Coppa Italia con Brescia 84 a 76 e con questa notizia di sport si chiude la seconda edizione del nostro telegiornale io vi auguro naturalmente una buona serata con i programmi di ETV. Da oggi l'informazione di ETV Rete7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.